Buonasera a tutti, i miei saluti vi giungono da quello che sarà il mio ufficio, il mio posto di lavoro per le prossime settimane. Sono Fabrizio Fraschetti, il direttore del centro di formazione professionale alberghiero di Castelfusano, quello che tutti qui a Ostia conoscono come ex Enalcotel. Ci siamo trovati come tutti i colleghi delle scuole a confrontarci con una realtà e con una difficoltà alla quale non eravamo né preparati né tantomeno abituati. Abbiamo i nostri ragazzi a casa e dobbiamo comunque lavorare per portarli alla fine dell'anno. Come fare? La tecnologia ci viene incontro, però anche la tecnologia va compresa, va studiata. Devo dire che in questo sono fortunato a lavorare con una squadra di persone con la testa sulle spalle e parlo dei nostri docenti, ma anche di tutto il personale della scuola. Di aver collaborato in maniera fattiva con le istituzioni, quindi con la città metropolitana, che è l'ente da cui il nostro centro dipende, ma anche con la regione Lazio, che è l'ente finanziatore dei nostri corsi, ed anche di aver fatto rete con i colleghi sul territorio, i presidi delle scuole. Diciamo che c'è stato un momento di grande confronto tra tutti noi per cercare di capire qual era la strada migliore. All'impronta, nei primi giorni abbiamo utilizzato lo strumento di comunicazione informatico che già avevamo a disposizione, che è il sistema del registro elettronico Argo, tramite il quale ci siamo tenuti in contatto con i ragazzi, abbiamo mandato sia delle dispense da studiare che anche dei test da svolgere. dopodiché, molto rapidamente, anche con gli organi centrali di città metropolitana, abbiamo dovuto fare una scelta, perché il rischio era di creare confusione, che ogni docente scegliesse la sua strada, la sua piattaforma, invece noi ci siamo uniformati su una piattaforma italiana, peraltro, questo è stato anche determinante nella scelta, che si chiama WeSchool. E su questa piattaforma abbiamo molto rapidamente, ripeto, con una grandissima collaborazione da parte dei docenti, del coordinatore dei miei docenti, il professor Ciappetta, del dottor Strignano, dello staff della scuola, della segreteria, abbiamo messo in piedi una rapidissima formazione per tutti i docenti e già da lunedì saremo perfettamente online con un orario scolastico di sei ore al giorno con tutte le nostre classi. Quindi questa settimana non è passata inutilmente, perché comunque abbiamo dato da fare ai nostri giovani utilizzando il registro elettronico e del materiale in pdf. Ci siamo tenuti in contatto facendo dei gruppi whatsapp, ma da lunedì si parte sul serio. Da lunedì siamo tutti di nuovo in classe, ognuno a casa sua, ma nella propria classe. Anch'io cercherò di dare il mio contributo da qui, cercherò di tenere le fila di tutta questa macchina molto complessa e molto ramificata che si sta muovendo. Non sarà facile, ma ce la faremo. Mi aspettavo una domanda sulla parte pratica, sui tirocini, l'alternanza scuola-lavoro che è parte integrante del nostro mestiere di formatori, è su quello purtroppo c'è poco da fare, perché la parte pratica non si può fare online, ci prenderemmo in giro tutti quanti se volessimo pensare di fare lezioni pratiche online. E lo stesso è il tirocini, il tirocini è parte integrante della formazione dei nostri ragazzi, va fatto in azienda, le aziende in questo momento sono chiuse e i ragazzi stanno nella loro casa. Recupereremo, ci rimboccheremo le maniche, quando si ricomincerà a lavorare recupereremo. Non sappiamo se riusciremo a raggiungere i target orari previsti dai programmi, però da questo punto di vista ci aspettiamo anche un orecchio sensibile da parte della Regione Lazio e speriamo in qualche sconto. Il rischio se no è di finire l'anno a luglio inoltrato, se non ad agosto. Comunque, adesso dobbiamo pensare positivo, dobbiamo andare avanti, noi siamo pronti, da lunedì tutti in classe, col centro di formazione alberghiero di Castelfusano e poi sculli.